Dopo le solite stucchevoli manfrine, i due sciagurati tornano al campo d'allenamento dello Zenit. Eh già, il caso vuole che in quei giorni la squadra di Mancini sia in procinto di partire per Mosca, dove sfiderà lo Spartak allenato da Massimo Carrera, in cui gioca un altro italiano, Salvatore Bocchetti. Mister! Mister! Ed eccolo, Roberto Mancini! Come andiamo, Mister? Come andiamo, Mister? Ma ora partite da là a Mosca. Ma quanto sono orecchini! Cazzo sempre da fuori, sto sopra. Io mi ricordo quando facevo la pubblicità del Zika Mega Drive. Tu ricordi quando facevo la pubblicità del Zika? Quanti anni devi prima di facevo la pubblicità del Zika? Ero piccolino, però mi ricordo. Ma usano, qua usano, qua che facevo la pubblicità del Zika Mega Drive. No a me ricordo quando facevo la pubblicità del Zika Mega Drive. Io mi ricordo quando facevo la pubblicità del Zika Mega Drive Penso che non sono le番vi o alla fine della pubblicità del Zika Mega Drive. Quanti anni sono le番vi oltre alla pubblicità del Zika Negri. Ero piccolo, sicuro che si fa possibile tutto il stallo sia in giro patente del Zika Mega Drive.